Analizziamo insieme il post Brescia-Milan con la quarta vittoria consecutiva da parte dei ragazzi che porta comunque con sé qualche qualche perplessità i top e flop avranno sorprese soprattutto per quanto riguarda i flop perché non sono neanche scesi in campo e poi concluderemo con il mercato o la trattativa Susu-Siviglia e tanto altro ma prima di tutto Kigla! Ciao ragazzi eccoci arrivati a nuovo appuntamento con la rubrica parlando di post Brescia-Milan quarta vittoria consecutiva per i ragazzi tre in campionato e una in Coppa Italia che danno, riportano il sole in quel di Milanello e soprattutto nell'umore dei tifosi rossoneri che come sono soliti fare ogni tanto volano anche fin troppo alto io sono contento dei punti del fatto che si sia accorciata la classifica si sia a ridosso dell'Europa League e anche non troppo lontani dall'Europa che conta però è anche vero che sono più pragmatico e cerco di riportare tutti sulla terra e ho ancora negli occhi la gara di ieri che ho visto presenziando in tribuna stampa a Rigamonti di Brescia ho visto dal vivo quindi vedendo bene tutti i movimenti e purtroppo anche la sofferenza centrocampo dei nostri ragazzi partita per grandi tratti dominata centrocampo appunto dal Brescia e spesso e volentieri i nostri ragazzi si sono trovati sbilanciati Leao non ha trovato la quadra e ha cercato di andare a sinistra sovrapponendosi ovvero scontrandosi sia con Cialanoglu che è limitando la corsia per il treno il TGV, l'Eurostar di Trenitalia Teo Hernandez e una volta spostato a destra è stato evanescente lanciando qualche timido accenno della sua classe ma senza continuità e il filo spinato che ho detto che il Milan è costretto a masticare e l'ho detto a Pioli in conferenza durante la conferenza stampa post partita è quello che si può circoscrivere alla presenza o all'ingresso meglio ancora di Revic che per la seconda volta ha cambiato volto alla partita è un giocatore che è abituato a masticare il filo spinato e è un giocatore che probabilmente per campi o per situazioni ostiche come quella che abbiamo riscontrato ieri a Rigamonti di Brescia è l'ideale quindi meno qualità più concretezza tanto che lo stesso Ibrahimovic dopo aver passeggiato per il primo tempo un po' sulle punte come ho scritto nel tweet appunto tra il primo e il secondo tempo ha deciso di correre di aggredire con maggior vemenza gli avversari per metterli in difficoltà ed è in una di queste occasioni anche un po' confusioniari diciamoci la verità in area bresciana che abbiamo trovato il vantaggio bene bene così perché comunque in ogni caso una delle problematiche delle passate stagioni era non riuscire a ad avere un vertice alto che tenesse la palla che salzasse la squadra bene se voi vedete lancio di conti la stessa cosa che è successo un po' nel 3 a 2 con l'Udinese lancio e palla difesa col petto da allora è stata con Darevic che l'ha appoggiata appunto a Ibrahimovic in questo caso è stato un po' il contrario ma fisicità in avanti ci ha regalato ci ha regalato sei punti importantissimi e alcune variabili di gioco che possono essere sicuramente utili quando le partite si incanalano come quella di ieri verso un binario morto a larghi tratti credevo che lo 0 a 0 fosse già un risultato fortunato perché il Brescia ha preso un po' a pallate Donna Rumma su Donna Rumma non mi voglio esprimere più voglio ovviamente lo sentirete citati citato dopo nei top e flop ma ragazzi è un top player senza se e senza ma vuole il rinnovo dategli il rinnovo vuole 20 milioni dategli 20 milioni vuole spostare la Madonnina e mettere la sua la sua statua con le mani allargate fateglielo fare perché è un top player e senza di lui a quest'ora sì che saremmo magari abbracciato col Brescia nelle basse zone della classifica ma come vi ho detto passiamo ai top e flop perché questa volta c'è da divertirsi soprattutto per quanto riguarda i flop per quanto riguarda i top di Brescia Milan ragazzi abbiamo detto prima Donnarumma sul podio in cima primo posto come nelle Olimpiadi non ne sfugge uno guardatevi la gara riguardatevela ormai voi siete abituati al fatto che faccia i miracoli non è non è la normalità ragazzi ricordatevi che non è la normalità tutti i punti guadagnati con Gigio Donnarumma sono punti che non avremmo avuto se ci fosse stato un altro portiere un portiere normale e io sento ancora i media che vogliono paragonarlo a Meret o altri giocatori in giro per il mondo che guadagnano tre volte tanto Donnarumma ragazzi Donnarumma con le prestazioni che sta regalando e con la continuità e i pochi errori che lo vedono protagonista si sta confermando il vero nostro top player è il giocatore che dobbiamo confermare dovete sottoscrivere il contratto come ho detto prima a Donnarumma senza se e senza ma al secondo posto dei top di Brescia Milan metto senza ombra di dubbio Ismael Benasser giocatore che sta crescendo sta dando continuità e seppur ancora ha dei dei momenti di stand by durante la gara e degli errori di distrazione sta limando proprio nei dettagli questa sua carenza cercando di ridurla fino a quasi farla sparire come la sua stessa a missione durante la conferenza stampa è un giocatore che chiede a se stesso molto in allenamento durante la settimana quindi ha grandi e ampi margini di miglioramento giocatore che sicuramente farà parte del Milan del futuro e al quale bisognerebbe affiancare il giocatore giusto non so se sia che sì perché vedo vedo Frank ancora in leggera difficoltà nel parlare masticare calcio con la qualità dell'Algerino ma sicuramente l'Algerino Ismael Benazer sarà il futuro centrocampista futuro regista di questo Milan quindi benvenuto anche questa settimana sul podio dei top altro giocatore che voglio collocare sul podio del top di Brescia Milan è Alessio Romagnoli Alessio Romagnoli che ultimamente non aveva regalato prestazioni lucide chiare cristalline come suo solito fare o almeno quello che noi pretendiamo dal capitano ma ieri l'ho visto pugnato l'ho visto lottare su tutti i palloni l'ho visto fare anche gruppo nel momento del festeggiamento finale ho visto un Romagnoli più sul pezzo meno con la testa tra le nuvole quindi siccome l'ho criticato nelle passate partite non non dandogli a volte la sufficienza voglio premiarlo questa volta perché ieri davanti ai miei occhi a Rigamonti ha fatto veramente veramente bene ha tenuto per gran larghi tratti della gara in piedi il Milan insieme a Gigio Donnarumma per quanto riguarda invece flop ragazzi non voglio non voglio trovare flop da campo perché è vero c'è la prestazione non totalmente sufficiente di di che si abbiamo visto dei dei detentennamenti in diversi in diversi uomini vediamo Leao anche in avanti lo stesso Ibrahimovic è stato è stato importante ma non l'Ibrahimovic che conosciamo noi quindi invece di dare la insufficienza e portare sul podio dei flop giocatori che comunque hanno dato tanto in campo pur sbagliando come dicevamo voglio portare sul podio del flop Paquetà e l'amico l'amico di Merende Piontek Paquetà perché perché io non ci credo non ci credo assolutamente che un attacco d'ansia e tachicardie possano venire così a caso è una è una patologia che comunque in ogni caso conosco e non è non è non è figlia di di sorprese è figlia di un periodo difficile ma visto che nel nei social nei social nei suoi canali Instagram cosa che nessuno lo obbliga a fare come potrebbe essere un sorriso davanti alle telecamere pubblica video mentre balla carioca mentre fa la roulette russa con la frutta palleggia con le angurie e si mette a cantare mentre ritorna da Milanello verso casa con la sadage brasilera e no questo non mi sembra per nulla un giocatore né depresso né tantomeno affetto da crisi di panico mi è sembrato più che altro un arrendersi di fronte al Milan 2.0 che si è creato adesso ovvero quello che c'eravamo auspicato noi con l'arrivo di Ibrahimovic le pappe molli caratterialmente parlando soprattutto perché sulle qualità tecniche del giocatore nessuno mette dubbi però a livello caratteriale ragazzi Ibrahimovic è una cartina torna sole così come per Piontek altro 2 metri largo 2 metri fisicato anche se i giocatori avversari difensori avversari soprattutto spesso se lo bevono a colazione quando ci sono i contrasti manda il papino manda il papino a mandare i messaggi manda il papino a dalla maestra dire il mio figlio vuole giocare vuole giocare e neanche mia mamma lo faceva quando all'oratorio mi lasciavano in panchina quindi è veramente una situazione che non da mina è una situazione non da giocatore da milan probabilmente sarà un altro addio doloroso probabilmente lo vedremo in altri lì di fare gol glielo auguro perché non auguro il male a nessuno ma sia il suo che quello di Paquetà non sono atteggiamenti da milan quindi entrambi sul podio dei flop di questo periodo di questi giorni che hanno accompagnato appunto il milan a Brescia manca poco la fine del calciomercato e tutto è circoscritto al tornello il tornello che vede entrate in cambio di uscite mi ricorda un po' il Gagliani che io contestavo quando diceva non entra nessuno se non esce nessuno ma la situazione finanziaria del Milan la situazione di bilancio non la diciamo la potenzialità del nostro proprietario ovvero Elliot che potrebbe comprare tutta la serie A e venderla al mercato del pesce ma la potenzialità che ha sul mercato il Milan visto le regole del fair play finanziario impone che ci sia un punto un entra esci di giocatori quindi seguiamo con attenzione la pista Siviglia con Suso io quasi scaramanticamente non ne volevo neanche parlare però da giorni ho tweetato il fatto che so so di per certo che c'è la regia di Mino Raiola sul tentativo di portare Suso in Spagna Suso è stato corteggiato da Monci tutto il periodo in cui è stato direttore sportivo della Roma e so che Raiola è il primo che ha chiamato per riproporre questo tipo di fidanzamento c'è un flirt che sta andando diciamo sotto coperta anche smentito dallo stesso Monci ad amici che mi hanno avvisato di tanta smentita ma io lo so che l'ho criticato mille volte ma credo più a quelle che sono le voci giunte dall'entourage di Raiola che non ha la procura del giocatore diciamo a cielo aperto e questo fa anche pensare fa pensare perché probabilmente è ritenuta una patata bollente anche dal famoso procuratore forse sarà più un favore all'AC Milan di sbolognarsi questo giocatore che appunto fa rima con Siviglia ma nessuno fino adesso se lo piglia e vediamo speriamo incrociamo le dita perché da lì potrebbe partire gli ultimi diciamo il rush finale i giorni del Condor anche se il Condor non è più in quel di Milanello ma in quel di Monza per diciamo rafforzare e riequilibrare una rosa che ha la necessità di recuperare ancora terreno sulle pretendenti per l'Europa l'Europa League e poi chissà magari anche l'Europa che conta comunque attenzione al cacciomercato alle ultime ore e soprattutto attenzione alla girandola di procuratori che stanno andando a bussare a casa Milan stanno proponendo tanti tanti giovani alcuni prospetti uno degli ultimi il laterale del il laterale avanzato dello Slavia Praga giocatore che ha tra l'altro segnato a San Siro contro l'Inter e che ci ha fatto divertire ci ha regalato una gioia già ancora prima di vestire la maglia rossa nera è stato proposto dal suo procuratore ultimamente a Massara vediamo le valutazioni e ditemi anche la vostra sul giocatore perché io a parte la partita contro l'Inter non lo conosco affatto quindi commentate qui sotto e ditemi la vostra sempre qui sotto ricordatevi di segnalare con la campanellina il ricevimento delle notifiche iscrivetevi al canale e iscrivetevi a tutti i canali che uso sui social ovvero Twitter Instagram Facebook e in un ultimo TikTok dove faccio qualche video un po' più divertente un po' più leggero come dico sono solito dire io quindi niente ci vediamo alla prossima con parecchie sorprese nei prossimi giorni perché ho un format interessante che vi voglio proporre sempre per voi sempre con voi sempre Forza Milan ciao ragazzi ciao